Camminare alla presenza di Dio in modo irreprensibile, con coraggio, speranza, grazie e conversione. Questa è la santità di ogni giorno che Papa Francesco ha descritto nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera di San Pietro proposto dalla liturgia. Francesco lo ha definito un piccolo trattato sulla santità, che non si può comprare né regalare. La santità non possiamo farla noi soli, no, è una grazia. Essere buono, essere santo, andare tutti i giorni un po' un passo avanti nella vita cristiana, è una grazia di Dio e dobbiamo chiederla. Coraggio, cammino, no? Un cammino che si deve fare con coraggio, con la speranza e con la disponibilità di ricevere questa grazia. E' la speranza, la speranza del cammino. E' tanto bello quel capitolo undicesimo della lettera agli ebrei. Leggetelo. Che racconta il cammino dei nostri padri, dei primi chiamati da Dio. E' come loro sono andati avanti. E il nostro padre Abramo dice, ma lui uscì senza sapere dove andasse. Ma con speranza. Coraggio, speranza e grazia. Chiedere questa grazia, signore, signore, quella conversione tutti i giorni. Ah, padre, per convertirmi io devo fare penitenze e darmi delle bastonate. Conversione piccola. Ma se tu sei capace di riuscire a non sparlare di un altro, così semplice. Io so che voi mai sparlate degli altri, no? Grazie. Grazie.